immagina una scatola colorata ora immagina di aprirla e uff ecco che esce una sorpresa vogliamo uscire vogliamo uscire stanno urlando li senti questi sono i nostri bambini pronti a scattare perché la vera vita è là fuori all'aria aperta a giocare nei parchi arrampicarsi nelle giostre o negli alberi saltare la corda ma anche loro l'hanno capito bisogna stare in casa alcuni sono diventati bravissimi a rimproverare i genitori che escono per lavoro o per fare la spesa o andare dal giornalario allora andiamo di fantasia immaginazione e creatività diamo un tempo ai compiti che non occupino tutta la giornata poi creiamo un percorso naturalistico in casa una corda per terra che simula le radici degli alberi delle foglie che magari i genitori quando escono possono raccogliere sulle quali si può camminare o i bambini possono stropicciare o dipingere o stampare su un foglio mettete in casa la musica ballate cantate e saltate ridete assieme leggete delle barzellette e giocate un po ogni giorno polly anna faceva il gioco del meglio così ogni volta che accadeva qualcosa lei cercava il lato piacevole vuoi provarci anche te non sia questa l'occasione una volta finita questa emergenza di lasciare in disparte la televisione e i giochi almeno per un po per trascorrere più tempo possibile all'aria aperta solo quando ti manca qualcosa che la si apprezza davvero non credi